Una quattro giorni dal 17 al 21 maggio prossimi ricca di avvenimenti ed eventi a Pescara per il 65esimo raduno nazionale dei bersaglieri che vedrà arrivare presso il capoluogo adriatico almeno 70.000 fanti piumati che giungeranno anche dall'estero. Il Clu ci sarà domenica con la tradizionale sfilata, previste limitazioni al traffico nelle strade interessate dagli eventi. Si aspettano tra le 60.000 e le 80.000 persone, quindi veramente una mole di gente impressionante nella nostra città. Il 17 ci saranno piccole manifestazioni, ma saranno manifestazioni molto simpatiche in questi giorni perché saranno le fanfare dei bersaglieri che suoneranno in vari punti della città. Quindi piccole, minime modifiche del traffico. Sabato sera invece la situazione diventa un pochino più importante perché ci sarà il gran concerto della fanfare dei bersaglieri a Piazza Salotta e quindi ci saranno delle modifiche della viabilità che riguardano soprattutto la zona del centro, modifiche della viabilità e modifiche che riguardano proprio la sicurezza perché è una manifestazione, un raduno nazionale che merita tutta l'attenzione del caso. Domenica invece sarà una manifestazione molto molto imponente. Ci saranno delle modifiche sostanziali del traffico cittadino e anche della sosta degli autoveicoli che andranno proprio in tutto il percorso dello sfilamento. Si chiama così infatti la sfilata dei bersaglieri che andranno appunto dallo stadio di Pescara, percorreranno via Marconi e poi ancora Corso Vittorio Emanuele e quindi arriveranno in Piazza Salotto. Le vie interessate sono sostanzialmente queste dello sfilamento e poi due zone che noi abbiamo contraddistinto con il colore azzurro, Porta Nuova e Centrale. Porta Nuova andranno appunto da via Marconi fino a via D'Annunzio dove ci sarà una corsia riservata soltanto ai mezzi di Tua, navette gratuite naturalmente per quel giorno e quindi ringraziamo anche l'azienda Tua e poi i taxi cittadini. In questa zona naturalmente sarà possibile lo spostamento in macchina per i residenti e soltanto con il controllo della Polizia Municipale. Non vogliamo ingambiare naturalmente nessuno però dando appunto un preavviso di oltre sette giorni prima invitiamo tutti a lasciare le macchine fuori da queste zone particolari.